Il Liceo Linguistico Vincenzo Gioberti vi offre l'opportunità di apprendere nuove lingue, di compiere viaggi di istruzione, di ottenere certificazioni linguistiche ed un doppio diploma italiano-francese con l'esame AESABAC. Oltre che sviluppare ovviamente le vostre conoscenze in italiano, latino, matematica, fisica, storia, filosofia, scienze, storia dell'arte e educazione fisica. Contattare il numero e l'email in sovraimpressione. Non ve ne pentirete! Non ve ne pentirete!